Parole di lode per gli impianti sportivi di Bustarsizio alla presentazione del trofeo Bracco. Questo per noi è molto importante, adesso chiaramente abbiamo il palaginnastica che è l'opera più importante che abbiamo, insomma continuiamo a investire negli impianti perché lo sport per Bustarsizio è importantissimo. Resta il problema poi della gestione però, il caso della piscina di via Manara insegna? Sì, come ho detto prima, della gestione noi possiamo costruirle ma poi la gestione dobbiamo per forza avviare ad altri. Però diciamo che, vabbè, ogni tanto succedono qualche problema, però devo dire che i nostri impianti finora sono stati affidati a persone serie che sanno lavorare e tra queste persone serie ci metterà giusto appunto anche i nuovi gestori della piscina.